Ancora vandali a Caltanissetta e questa volta a farne le spese sono i giochi dei cittadini più piccoli che non potranno giocare sulle giostre vandalizzate da ragazzi più grandi che a calci hanno rotto parte della struttura e sporcato il resto. Impronte sulla lavagna laterale che è pensata per i disegni dei bambini, altre invece sono i disegni e le scritte con cui hanno imbrattato le pareti della struttura eppure il parco è rovinato pur essendo una delle villette comunali della città dove vanno ogni mattina mamme con i bimbi o persone a fare jogging o ancora padroni che portano a passeggio i loro cani. Indignazione espressa in più gruppi social sulla questione a cui l'assessore ai servizi sociali ha risposto con fermezza facendo appello alla sensibilità dei cittadini che amano e vivono Caltanissetta. Questi giochi li abbiamo messi da poco perché c'è un progetto politico nella città per quanto riguarda i bambini. Stiamo rimettendo i giochi nuovi, stiamo aggiustando quelli che si potevano aggiustare ma non solo in questo parco, lo stiamo facendo alla Villa Cordoba, alla Villa Medeo, a Villa Monica, a Piazza della Repubblica abbiamo messo dei giochi completamente nuovi. Stiamo cercando di creare, dopo due anni di pandemia dove tutti i bambini sono stati a casa, stiamo cercando di riportarli negli spazi dedicati ai bambini. Non è giusto, io non capisco perché ci sono dei vandali, perché non sono altro, non sono bambini, non sono persone adulte, sono soltanto dei vandali. Non voglio sapere chi sono ma mi rivolgo a loro. Perché dovete distruggere una cosa che appartiene a tutti noi, uno spazio dedicato ai bambini, per loro, per noi, per le mamme, per tutti. Perché devono distruggere quello che noi stiamo cercando di costruire in questa città? Ieri ho avuto tanta solidarietà dalle mamme che mi chiedono, assessore, per favore, mettete le telecamere, il custode. Io non sono convinta di questo. È vero, il custode potrebbe essere un deterrente, le telecamere sono un altro moccoso che potrebbe mantenere, ma io non credo che sia quello. È un problema di educazione, di civiltà, di educazione civica, che a Caltanissetta non c'è. Mi dispiace dirlo, ma è la verità. Mi rivolgo a queste persone, ma non solo a queste persone, perché quelli sono abituati a farlo e vogliono continuare a farlo, perché nella loro mentalità. tutte le persone che potrebbero richiamare queste persone, aiutateci a mantenere quello che noi stiamo cercando di costruire in questa città. Una città in misura di bambini. I giochi sono per loro, non sono per gli adulti o per le persone grandi.